Una norma che ha funzionato in questi anni e che è soprattutto legata alla promozione turistica e in particolar modo alla promozione territoriale. Parliamo di una categoria che conta oltre 700 persone in questa regione, 33 scuole di sci che occupano ovviamente tutti i comprensioni sciistici ed è una norma che valorizza la formazione, la sicurezza, la vigilanza e la promozione territoriale della nostra regione. È l'unica categoria che la propria divisa ad esempio porta i colori della regione Abruzzo e tutte quelle modalità comunicative che sono state stabilite dal Dipartimento del Turismo della regione Abruzzo. Credo che sia stata un'ottima cosa dare copertura finanziaria a una legge che ha consentito al nostro presidente regionale dei collegi dei maestri di sci di diventare vicepresidente nazionale perché questa legge è presa anche a riferimento anche dalle altre regioni. Una dotazione finanziaria importante Paoluccio, quanto monta? Beh 100 mila euro, dopodiché il Consiglio regionale può di anno in anno nel momento in cui si delibera e si approva la legge finanziaria rifinanziare questa legge che voglio ancora una volta ricordare è per garantire la sicurezza, la formazione, promuovere il territorio, lottare con l'abusivismo e contro ovviamente l'abusivismo e infine fatemi fare anche un ultimo ringraziamento a tutto il Consiglio regionale perché sia il centrodestra, sia il Movimento 5 Stelle, oltre ovviamente ai colleghi del centrosinistra che hanno condiviso la proposta hanno consentito a che questa proposta che originariamente portava soltanto la mia firma fosse al contrario condivisa poi da tutto il Consiglio regionale.